Sono più persone a ricordare, più enti a ricordare Parepino Puglisi. Grazie a Monsignor Lorefici ci siamo riuniti tutti in unità a ricordare i 24 anni del martirio di Parepino Puglisi. Quindi abbiamo fatto un programma unitario che vuole ricordare Puglisi per quello che era. Quindi questo programma non è altro che l'evoluzione delle attività che quotidianamente il Centro svolge insieme ad alcune persone enti che l'hanno voluto ricordare per l'anniversario. Cos'è cambiato in 24 anni? È cambiato tantissimo a Brancaccio. Oggi chi viene a Brancaccio trova un quartiere cambiato anche a livello strutturale. La gente ha più fiducia nei confronti del Centro Pare Nostro e anche delle istituzioni. Il problema è che bisognerebbe fare un progetto mirato dove ci sia una coprogettazione fra i privati e gli enti pubblici. Questo darebbe ancora più fiducia. D'altronde abbiamo dimostrato che quando questo succede, con la creazione del Centro Palermo Sportivo, Regione, Comune, enti privati, Centro Pare Nostro, Fondazione Giovanni Paolo II, siamo riusciti a donare a Brancaccio un gioiello dello sport, cosa che a Palermo non è fiste. Quindi è qualche cosa che bisognerebbe proseguire. Però purtroppo si stenta sempre a ripetere modelli vincenti. Non si capisce il perché. Il Centro Padernostro è stato più volte attenzionato e non in maniera ecopositiva. Ma quanto è difficile operare in una zona che non è proprio accogliente? Allora è molto difficile. Operare a Brancaccio alcune volte ti scoraggia. Noi abbiamo fatto circa 100 denunzie per atti intimidatori. Minacce di morte ad alcuni operatori, a me stesso. Però questo poi, come dire, passato quel momento, il sorriso di Puglisi ti incita ad andare avanti perché dice, beh, io ho sacrificato la mia vita per questa gente. Se tu ci credi lo devi mettere anche nel conto. Questo non significa che tutti i cristiani, tutti quelli che credono, devono essere martirizzati. Però è una cosa che devi tenerne conto. Quindi non ti puoi fermare alla prima difficoltà. Certo, difficoltà ne abbiamo avute tantissime in questi anni. Però noi ci siamo sentiti sempre accanto a Padre Puglisi che ci ha accompagnato in questo percorso. Non soltanto a Brancaccio. Ricordiamo che il Centro Padernostro ha una sede a Falso Miele, ha una sede anche all'Ozenne. E poi diverse attività in tutto il territorio cittadino. Però indubbiamente accanto alle cose negative ci sono delle cose positive. Le cose positive sono tantissime. Avere inaugurato il 21 aprile il Centro Aggregativo per Anziani in un vecchio mulino che era dirupato. Avere aperto un teatro a Brancaccio che ancora ha bisogno di qualche raffinatezza. Però abbiamo un progetto culturale a Brancaccio grazie a Carlo D'Alberre che si occupa di questa proposta culturale. Le collaborazioni con le scuole, con tutte le scuole di Brancaccio. Quindi sono delle cose che sono cresciute in questo tempo con la gente che ha creduto. Chi ha creduto in Padre Puglisi ma sicuramente chi crede nella legalità, chi crede nella giustizia. Ci vuole impegno, ci vuole crederci ma soprattutto ci vuole rimanere nel territorio. Perché non si può parlare di mafia dietro a una scrivania. Non si può soltanto fare convegni su Puglisi o scrivere semplicemente dei libri. Ecco Puglisi è un testimone credibile perché ha testimonato la vita a Brancaccio insieme alla gente che soffriva. Lui si è fatto compagno di strada con quella gente. Quindi noi abbiamo cercato di imitarlo in questo. Quindi le manifestazioni in ricordo di Padre Pino Puglisi non sono altro che l'evoluzione di quello che facciamo tutti i giorni. Quindi la vicinanza al mondo carcerario e quindi andare a proiettare un docufilm sulla vita di Padre Puglisi, del regista Francesco Millonzi, Il sorriso di un beato. E andare là a fare capire a loro che cosa la malavita ha fatto. E quando tu fai vedere questo docufilm, vedere che la gente si mette in piedi e applaudi per dieci minuti. Quest'anno ci sarà la presenza dell'Arcivesco o anche in una proiezione del 6 settembre. Questo ci fa capire che cosa? Che quella è la strada giusta. Stare accanto a queste persone. Stare accanto ai familiari che rimangono a casa da soli. Non hanno chi in qualche modo li può sostenere mentre il familiare è in carcere. Ecco allora l'appello che si fanno alle istituzioni. E dire c'è uno strumento, si chiama Cassa delle Ammende, che serve per aiutare i familiari. Però spesse volte questi soldi vengono depauperati in corsi di formazione che non servono invece alle famiglie. Ecco, se non si fa carico della famiglia, della persona arrestata, lo Stato, lo fa la mafia. La mafia chiede il pizzo e si presenta così. Dobbiamo aiutare le famiglie che sono a casa e che non hanno chi li mantiene. Ecco, quindi sotto questo aspetto caritatevole invece si insidia il fatto che tu per aprire un'attività a Blancaccio devi pagare il pizzo.